L'attacco hacker che ha messo in ginocchio l'Aslo 1 ha coinvolto anche le strutture carcerarie che vi fanno capo. Le cartelle cliniche dei detenuti di Sulmone e Preturo sono state violate dal cosiddetto gruppo Monti. La possibile vulnerabilità della rete è al centro di un progetto pilota in Europa che il garante abruzzese per i detenuti Gianmarco Cifaldi sta portando avanti insieme alla regione Abruzzo. Prevede un doppio sistema di protezione dei dati relativi alla popolazione carceraria e mediante la creazione di un'apposita cartella sanitaria di medicina penitenziaria. Penso che sia utile in particolare dove ci sono detenuti particolari appunto come quelli al 41 bis avere una protezione ulteriore dei loro dati sia importante. Intanto a differenza di quanto comunicato dall'azienda sanitaria la ripartenza del CUP, centro unico di prenotazione, risulta piuttosto lenta nello specifico si apprende dagli addetti lavori che la prenotazione dei prelievi risulta ancora bloccata per le visite si stanno prendendo in carico solo quelle con l'urgenza tutto paralizzato ancora per l'intramenia, almeno nella struttura sulmonese di via Le Mazzini. Nel frattempo il caso dell'attacco hacker è finito in Parlamento con l'interrogazione presentata dalla senatrice Gabriella Di Girolamo che vuole far luce sulla vicenda soprattutto sulla protezione dei dati sensibili messa a dura prova dei pirati informatici. Io mi sono permessa di interrogare direttamente il Presidente del Consiglio e il Ministro di Riferimento e per loro tramite anche il garante della privacy visto che questa operazione ormai è possibile con il nuovo regolamento del Senato. A noi interessa capire se sono stati posti in essere tutti gli accorgimenti necessari e previsti dalla legge per evitare questo tipo di attacco. Nel bel mezzo dell'emergenza la ASL intanto diffida l'informazione. Non era avvisabile alcuna giustificazione sia in punto di diritto che morale all'attuale modalità di informazione tenuto conto della tipologia di documenti pubblicati anche se oscurati in quanto nel caso di specie non è preminente l'interesse pubblico della notizia così come resa posto che il diritto di cronaca appare già soddisfatto con la semplice narrazione dei fatti. Si richiama altresì il rispetto dei doveri imposti dal codice deontologico professionale si legge in un passaggio della nota aziendale. Non si sa chi è diretto il richiamo dell'azienda che appare comunque sacrosanto ai fini della protezione dei dati trafugati. Tuttavia, visto lo spirito di collaborazione, rivolgiamo un accorato appello all'azienda sanitaria a non replicare cioè quanto avvenuto in tempo di Covid, quanto più che aggredire con fermezza l'emergenza, si spostava il tiro sui giornalisti che mettevano in luce le problematiche. La priorità in questo momento deve essere ripristino in tempi brevi del sistema informatico visti disagi a catena per utenti e operatori di tutti i presidi. Di certo la problematica non si risolve con una diffida generalizzata ai giornalisti, soprattutto a quelli che suppliscono il più delle volte alle carenze della ASD con la corretta informazione.